Una bozza di delibera è stata già proposta ai vari uffici. Si parla di una delibera di giunta o che deve essere approvata al Consiglio Comunale? Deve essere approvata al Consiglio Comunale, perché delibera di giunta non si può fare mai. È una delibera che comunque la bozza già ce l'avevano perché negli anni passati già si era fatta una bozza. Bisognava soltanto mettere alcune componenti nella bozza e farla lavorare dall'ufficio competente. In questo caso lavori pubblici. E da questo eventuale accordo quali vantaggi può ricavare la società? Io penso che avere una struttura nelle nostre possibilità è anche un discorso di sprono in più per andare avanti. Diciamo che l'amministrazione comunque se ci sta dando una mano, che è tradotto in soldi, è una mano abbastanza forte. Ciò vuol dire che l'amministrazione ha fiducia in noi nella nuova società e noi in loro. Perché insieme si possono fare grandi cose. Se ognuno comincia a titubare il raggio, si va a togliere. Al mister, avete già pianificato la prestagione, cioè il ritiro, perché ho capito che c'è un ritiro? Stiamo lavorando. Sarà qui in sede o sarà fuori? No, sarà fuori. Ancora però non abbiamo niente di... Stiamo lavorando diverse località, anche perché dobbiamo fare un ritiro per amalgamare il prima possibile il gruppo. Per questo stiamo facendo... La società ha voluto fare il ritiro fuori per dare anche un segnale che le cose si fanno seriamente. Per cui faremo il ritiro fuori. Adesso stiamo lavorando diverse località che ci consentono di lavorare bene. Siamo nel tempo, insomma, di... Sorgì, ciao a tutti.